Il cantiere della strada Parco a Pescara può andare avanti. Nessuno stop della giustizia amministrativa ai lavori. A comunicare la notizia è stata in tarda mattinata all'amministrazione comunale annunciando che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avanzato da Comune di Pescara, tua e Ministero dei Trasporti per l'annullamento della sentenza del dicembre 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale sulla riapertura dei cantieri per i lavori di realizzazione del tracciato della filovia. Già il 24 marzo, continua la nota, i giudici di secondo grado avevano accolto l'istanza cautelare per la sospensione della sentenza del Tar consentendo così la ripresa dei lavori. La decisione in appello, conclude il Comune, rimuove l'ultimo ostacolo giuridico al cronoprogramma che prevede il passaggio del filobus sulla strada Parco. Insomma il collegamento di Pescara con Montesilvano potrà procedere secondo programma. L'obiettivo è quello di fare entrare in esercizio i filobus entro fine anno. In questi quattro mesi entrambi i Comuni provvederanno a completare alcune opere stradali, a sistemare i terminal e anche il verde su tutto il tracciato. Inoltre per scongiurare danneggiamenti e dati vandalici il montaggio delle pensiline e della palinatura intelligente interattiva saranno completate e messe in opera prima che i mezzi entreranno in servizio. Sulla vicenda parere positivo è stato espresso dal presidente della società di trasporti della regione Abruzzo, Gabriele De Angelis. La tua ha dichiarato accoglie il favorevole pronunciamento del Consiglio di Stato che chiarisce definitivamente la procedura. La società si sta organizzando per dare corso nel più breve tempo possibile alla messa in esercizio dell'impianto filoviario. Reazioni positive anche dal presidente della regione Marco Marsiglio. Vince il bene comune, quello vero. Continueremo a lavorare insieme alle amministrazioni comunali interessate perché questo primo lotto venga seguito dai finanziamenti per realizzare i lotti successivi già programmati.